Si acuisce lo scontro tra Comune di Pelezzano e Provincia di Salerno. Le due amministrazioni, entrambe di centrodestra, da mesi hanno ingaggiato un vero e proprio braccio di ferro sulla manutenzione delle strade che, nel centro della Valle dell'Irno, sono in buona parte di competenza provinciale. Dalla Pelezzano Cava, le arterie principali che attraversano il Comune alle porte di Salerno. Dopo aver atteso in vano un intervento da Palazzo Sant'Agostino, quindi il Sindaco Citro ha deciso di passare all'azione stanziando 30.000 euro per un primo intervento di somma urgenza per rifare il manto stradale, in particolare sulla provinciale 27, che collega Baronissi a Salerno attraversando Pelezzano, oltre che su un'altra serie di strade, tra le quali via Tenente Farina, dove i lavori sarebbero dovuti iniziare questa mattina. Sul posto però, dopo una comunicazione inviata nella giornata di ieri, si sono presentati anche i tecnici della provincia rivendicando la competenza, respingendo la procedura avviata dall'amministrazione comunale di Pelezzano in danno dell'ente di via Roma, un atto al quale il primo cittadino ha risposto con un'ordinanza urgente per far proseguire i lavori. È prioritario dare un segnale al territorio di tutela dei cittadini, per questioni legate alla privata e pubblica incolumità, come possono essere quelle del manto stradale, delle strade provinciali, che insistono sul nostro territorio. Siccome in passato abbiamo avuto una marea di ricorsi, di denunce per incidenti, vari buche sul territorio, ci sta a cuore quella che è la sicurezza dei nostri cittadini. A dividere Pelezzano e provincia di Salerno anche la frana di tre anni fa, a pochi passi dal municipio, i cui lavori di ripristino sono ancora incompleti. Sono anni che sollecitiamo la provincia, non solo per quanto riguarda il discorso del manto stradale. Voglio ricordare un fatto eclatante, che è la frana, che proprio sotto il comune, a 20 metri da noi, circa tre anni fa ci fu una frana. Ebbene, un paio di settimane fa siamo stati noi costretti a togliere dei blocchi che impedivano il normale transito della carreggiata. Sono stati fatti dei lavori talmente a rilento che tuttora sono ancora fermi e bloccati. Quindi una frana sotto una casa comunale, come il comune di Pelezzano, che davanti agli occhi di tutti, la provincia è stata più volte diffidata, sollecitata e stiamo ancora così con un lavoro al 50%.